Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Firenze Smart per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla FIPILI dove a causa del traffico intenso si registrano code in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze e rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Passiamo sulla 1 anche qui a causa del traffico intenso rallentamenti tra Calenzano Sesto Fiorentino e il Bivio con la variante del Valico in direzione Bologna. Sempre in A1 stanotte in orario 22.6 per ispezione ordinaria rimarrà chiuso lo svincolo di Firenze Sud in uscita in direzione Roma. Cantieri di Firenze domani martedì 25 gennaio in orario 9.19 per lavori con piattaforma aerea chiusa via dell'Ulivo nel tratto da via dei Pepi a via Michelangelo Bonarroti. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!